ciao ragazze io ho finito da poco lo shooting sono in aeroporto ho lasciato ora sergio che sta tornando al circeo e io torno a casina dopo tre giorni in giro sono nella mia baby niente ragazzo questa cosa qua che non riesco a capire che cosa sia orribile è bruttissima mi prude mi brucia poi è sempre umido non riesco a capire che cos'è un escoriazione non so se mi sono bruciata non riesco a capire che cos'è ma mi fa un male che non vi dico infatti sto evitando anche di truccarmi apposta comunque appena sono pronte le fotine che ho fatto oggi ve le pubblicano non vedo l'ora di farvele vedere ci sentiamo dopo grazie a tutti